Allora, siamo qui in un locale esclusivissimo di Milano che si chiama Lo Sciù e sono stata invitata dai ragazzi di scuola.net e tra poco dovrò cantare. Ma è vero che il locale è talmente esclusivo che non potrete notare come la prima cosa che vi è capitata, ma giusto una cosina così. E niente, volevo farvi sapere che c'è sempre l'ansia da presentazione. Quando devi cantare, sia un pezzo, 10 pezzi, 20 pezzi, hai sempre la tremarella e questo è il momento di tremare. Tipo che il rum non è il mio drink e te lo grido sotto casa tua, ti amo ancora e sono, sono. Quindi scattano tutte queste paranoie, oddio, se casco, se non vedo a pulga, se tipo non sento il microfono, se non scoppia la porta, se mi faccio un rottino. Ma è vero che c'è sempre l'ansia da sento il microfono, se non vedo a pulga, se non vedo a pulga, se non vedo a pulga, se non vedo a pulga. Ma è vero che c'è sempre la prima cosa. Ma è vero che abbiamo. Quagge mandato un tiro legale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.